La cronaca è ancora sotto shock, la dottoressa 28enne specializzanda in chirurgia che la sera del 7 gennaio è stata aggredita mentre era in servizio alla guardia medica del Gervasutta di Udine. Questa aggressione è solo l'ultima di una lunga serie al personale del 118 e dei pronto soccorso. Sono stati 2.500 casi nel 2022, secondo i dati INAIL, vittime soprattutto le donne, anche se per gli addetti ai lavori il dato sarebbe sottostimato. Il servizio di Lillo Montalto Monella. L'accompagnatore si è dimostrato molto aggressivo dapprima nei confronti della mia collega, prima avvicinandosi solo col volto al suo, con fare minaccioso, e in un secondo momento mettendole la mano al collo, con uno sguardo veramente atroce, mano dal collo che le ho prontamente tolto perché ho sentito la sua difficoltà a respirare, dopodiché ha cercato di sferrare un calcio anche a me. Quando è avvenuta l'aggressione fuori dalla guardia medica del Gervasutta di Udine, sabato sera alle 18, Giada Abeni, specializzanda in chirurgia generale, non avrebbe dovuto neanche essere in turno. E' stata la collega Adelaide Andriani, la dottoressa presa per il collo, a chiederle di aggiungersi in turno, all'ultimo minuto. Adelaide non se la sente ora di parlare, ma ha convinto l'amica qualche giorno fa a raccontare su Facebook l'episodio, per denunciare l'accaduto e per affrontare il problema dei rischi connessi al lavoro nel servizio di continuità assistenziale. L'aggressione è avvenuta alle 18, qualche ora prima che iniziasse il turno notturno della guardia in portineria. Voi non dovreste mai restare sole, cosa succede poi nella pratica? Nella pratica siamo spesso sotto numero, quindi gioco forza, qualche volta capita di dover fare i turni da soli, a me personalmente non è mai capitato per mia opposizione, ma comunque basta che siamo in due e uno vada in domiciliare, l'altro chiaramente resta solo in sede. Il servizio di continuità assistenziale non si dovrebbe accedere, dovrebbe essere solo un servizio telefonico in teoria. Cosa accade in pratica? Il servizio dovrebbe essere un servizio di raccolta di chiamate ed eventualmente valutazioni domiciliari. In pratica in realtà quando si arriva ci si trova già la fila fuori dall'ambulatorio. C'è anche quindi il problema della visita a domicilio ma da sole? Esatto, anche quello è un po' sempre un punto interrogativo. Io spesso mi sono sentita chiedere dai pazienti dove andavo a domicilio, dottoressa ma non ha paura di andare in giro da sola? Ovviamente la paura c'è perché non sai mai chi ti trovi davanti.